Sicuramente è una grande consapevolezza di quello che c'è intorno a noi, non raccontarci delle favole, ma capire qual è la cruda realtà e capire anche come i cittadini, come poter reagire. Io credo che i modi ci siano, non ho mai perso le speranze che sicuramente il mondo possa cambiare. Ho imparato dalla mia esperienza che non solo, come ho già detto prima, è importante informarsi, perché io quando è stato ucciso papà non sapevo che la mafia c'era nella mia città a Foggia, invece erano già stati uccise delle persone. Nel 1992 erano stati uccisi due costruttori dalla mafia foggiana, che molti scambiano per la Sacra Corona Unita e invece è un'altra mafia, quindi ecco questa consapevolezza è molto importante. E poi probabilmente ricordarci qual è il nostro nemico. Alcune volte perdiamo tanto tempo a fare storie inutili spesso tra di noi e invece dobbiamo ricordarci che il nemico è altro, il nemico è fuori e tenerlo sempre fuori proprio per poterlo combattere meglio.